benvenuti vi do il benvenuto su un palco un palco teatrale con una scenografia con degli oggetti con degli arredi insomma vi do il benvenuto su quello che è il terreno da gioco di ogni attore perché per l'attore la sfida del teatro è una sfida irresistibile perché sei solo e senza non puoi registrare non la puoi rifare l'errore non si può correggere a posteriori sei figlio padre madre delle tue capacità e quello che riuscirai a trasferire dipende dalla tua abilità della tua prontezza della tua consapevolezza perché spesso e volentieri ci si dimentica che un attore è attore a volte di più quando non ha battute quando sta zitto quando riesce a comunicare soltanto con l'intensità delle sue espressioni quello che prova il suo personaggio in quel momento però diciamoci la verità questo gli attori raramente lo ammettono ma quelli più onesti sì è comodissimo essere difesi dal personaggio non sei mai te stesso è tutta colpa del personaggio del regista e dell'autore